Gli obiettivi del millennio che vedete qui alle mie spalle segnano un passaggio importante verso il paradigma dell'economia civile, che è il tema della mia lezione. Economia civile vuol dire passare da una politica economica a due mani, dove il mercato, la mano invisibile del mercato e la mano visibile delle istituzioni risolvono i nostri problemi, a un sistema a quattro mani, dove alle due mani di mercato e istituzioni si aggiungono quelle della cittadinanza attiva e delle imprese responsabili. Non a caso il goal numero 12 parla di consumo e risparmio responsabile e il 17 di partnership per gli obiettivi del millennio. L'economia civile sta oggi facendo un passo avanti di frontiera anche nella definizione degli obiettivi di benessere. Il benessere è multidimensionale ma muove decisamente verso le determinanti, la componente principale della soddisfazione e senso della vita che oggi chiameremo generatività, cioè la capacità delle nostre vite di influire in modo positivo su quelle degli altri. Il grande obiettivo dei prossimi anni deve essere quello di costruire società al 100% generative.